Docenti di strumento, pianoforte Ciro Fellinio, Claudia Riccardi a flauto, Salvatore Morra alla chitarra, Gianluca Pirro violino e lì, ripeto, dirige il maestro Ciro Fellinio. Grazie. 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 Buonissime parole di ringraziamento all'associazione, all'organizzazione del secondo anno che noi partecipiamo parte a questa magica randonnì incontro di tutte le orchestre. Vorrei salutare la mia presa che ha l'esposito e ringraziarla della stima che ci dà per poter creare tutto questo e dire ancora che siamo accogliosi di un primo premio assoluto al concorso mercadante di Napoli e di un primo premio a un concorso molto importante, Giuseppe Caso, come abbiamo riscosso anche lì, un primo premio. Grazie. 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 Allora, consentitevi una parola di ringraziamento, sono la dirigente dell'Istituto Confrensimo Michelangelo Consult, sono molto fiera dei miei ragazzi, vi devo dire la verità, veramente felice. e vorrei ringraziare i miei docenti, il professor Ciro Ferrigno che è un altro Deus ex macchina di tutto, diciamo la professoressa Claudia Di Parvi, il professore Calvatore Mora e il professore Gianno Capirgo allora, un mio ringraziamento va a...